Buonasera, buonasera cicciuli belligeranti e bentornati dal vostro Dictator Lorenz serata Saturday Night Live, con la K, perché noi siamo cavalieri nell'anima con Mountain Blade Bannerlord, il vero Saturday Night Live Perché? Perché ragazzi, ieri, strimpellando, mi sono reso conto che è uscita da pochissimi giorni l'aggiornamento alla mod 1100 per Mountain Blade Bannerlord che, per chi non lo sapesse, è stata spiegata nello short ed è una mod ambientata tra l'anno 1000 e il tardo 1100 sulla mappa europea una mod che si prefigge, diciamo, un compromesso storico sicuramente più accurato rispetto al vanilla visto che il vanilla comunque ha un'ambientazione distopica, un po' fantasy possiamo definire, non proprio fantasy ma, insomma, non è storicamente accurata Allora, oggi pomeriggio, quattro ore fa, ho fatto un sondaggio nella sezione community e dopo aver raccolto il vostro parere e avete votato in 536 il 55% di voi vorrebbe vedere gli stati italiani Allora, questa è una mod che ha tantissimi PNG, ha tantissimi clan, più di 500 personaggi e 24 culture e sottoculture, diciamo, differenti In Italia ce ne sono presenti due, abbiamo i normanni in Sicilia e gli stati italiani che sono comunque all'interno del Sacro Romano Impero ma hanno una loro cultura con delle loro truppe e delle loro caratteristiche quindi, seguendo il cicciolo pensiero ladies and gentlemen, questa sera impersonificheremo niente poco di meno che lui, dov'è? Alberto da Giussano, mio signore Sì, l'Albertone Nazionale Ho preparato il personaggio, non sono andato avanti questo è lo start, vergine il nostro Albertone Nazionale che ho fatto estremamente sexy è proprio un bel humet, come si dice dalle mie parti Alberto da Giussano con un logo che voi direte, sì, ma è irlandese no, è che in realtà non c'è la croce di San Giorgio ok? Dovevamo mettergli la croce di San Giorgio allora ho detto, che cosa potremmo utilizzare per rappresentare un fiero un fiero lombardo? Beh, ho utilizzato la rosa camuna che più o meno è simile ad un quadrifoglio perché purtroppo i loghi sono quelli quindi rosa camuna bianca su sfondo verde più lombardi di così si muore oggi giochiamo con Albertone Buonasera Traianus, buonasera Michele, ciao Alessio un saluto a Frida, Legion, Willero, Andrea Zordan, Marcus buonasera Tommy ciao ragazzuoli come state cari, come state? aspetta che ingrandisco la chat perché il dittato sta diventando vecchio e orbo allora, vi chiedo gentilmente un feedback audio-video cosa ci facciamo in Francia? siamo in Francia perché questa è la spawn position a prescindere dalla cultura che voi andrete a scegliere voi spawnerete qui, ok? prima di iniziare a giocare volevo farvi vedere come la Lemmy Project che è la mod della mappa europea è stata aggiornata di pari passo con la 1100 e sono stati aggiunti un sacco di insediamenti guardate in Inghilterra, in Scozia quanti ce ne sono guardate l'Irlanda ma non solo ragazzi perché poi sono state rinominate direi anche finalmente con dei nomi verosimili con dei nomi reali anche tutte le città della Scandinavia, del Baltico abbiamo Ulstrupalov, Ribe, Hamburgo guardate quanti ne hanno aggiunti e si va fino ad arrivare nella zona della Prussia c'è la cultura no, questo è Nordic dov'è che sono questi qua? guardali qua la cultura Sami, la cultura finlandese poi abbiamo i Rus c'è Novgorod mio signore si scende ci sono anche i Rus di Kiev si scende con le popolazioni slave è presente anche l'impero romano l'impero bizantino fondamentalmente e così via discorrendo fino ad arrivare in Oriente dove sono presenti un sacco di città ce ne sono molte di più rispetto alla serie che abbiamo visto guardate qua guardate guardate al Cufra guardate quanto si abbassa la mappa si scende addirittura fino al deserto cioè pazzesco hanno fatto un lavoro fenomenale allora inoltre inoltre a differenza della mod che vi abbiamo presentato Eagle Rising che è ancora in una fase molto embrionale sono state ritoccate davvero poche culture ci sono ancora un sacco di problemi qui vi faccio vedere giusto perché poi dopo voi dite che io sono matto guardate quante civiltà ci sono ci sono i gallesi i turco persiani i turchi gli spagnoli i siciliani i serbi gli scozzesi i sami che sono i finlandesi i russi i portoghesi i polacchi i nordici gli italiani gli irlandesi gli mazighi gli ungheresi i greco-romani che sono i bizantini i germani i georgiani i francesi inglesi i bulgari popolazioni del baltico gli arabi i vaken i nord e i darsi quindi vedete come anche nel bacino del baltico per dire non c'è una popolazione sola che raggruppa tutte quelle scandinave in Inghilterra ragazzi non ci sono solo inglesi ma ci sono inglesi scozzesi irlandesi e hanno tutti quanti un tech tree loro hanno truppe loro e la cosa bella è che sono differenziate le truppe perché questa è una mod molto complessa che richiede di diverse submod per poter funzionare e una volta che le avete installate tutte andrete a scoprire un quantitativo di truppe spaventoso guardate che roba allora troverete dentro anche delle truppe vanilla nell'enciclopedia però nei rami sono completamente differenti cioè guardate per esempio i fuori legge perché poi sono presenti anche i fuori legge e sono particolari le statistiche sono veramente differenti tra non so un nobile a cavallo gallese e un nobile a cavallo italiano perché come potete ben vedere anche qui per esempio questo cavaliere è molto bravo con l'arma inastata e nell'equitazione ma se andiamo a vedere la differenza con un altro cavaliere che cavolo ne so scozzese per esempio andiamo a prendere un cavaliere scozzese vedete come la differenza di utilizzo dell'arma inastata sia completamente differente cioè 260 questo fa molto più male e oltre a questo se voi lo fate smontare da cavallo combatterà a piedi ad un livello eccezionale perché 260 di arma ad una mano 260 di armi a due mani è veramente veramente forte ciao frid ciao raven e niente allora noi siamo di cultura italiana impersonifichiamo albertone da giussano quindi noi abbiamo nel barbarossa diciamo il nostro più acerrimo nemico c'è milano e piscinina perché noi siamo sotto genova in realtà dovrebbe essere il contrario genova un po' il porto di milano ma vabbè non voglio triggerare nessuno poi vi faccio vedere vabbè cuneo c'è brescia aosta abbiamo padova ferrara aguilla grosseto firenze orbetello fabriano ancona roma armiternum frosinone chieti napoli potenza foggia vieste altamura castel sant'angelo poi abbiamo policoro castra salerno stilo chiterion polistena e poi abbiamo randazzo il castello di gagliano caltanissetta trapani palermo e così via discorrendo guarda che roba carina che hanno fatto è fantastica è fantastica possiamo vedere le truppe italiane certo che potete vedere le truppe italiane le truppe italiane si differenziano come vi ho detto prima tra quelle delle città-stato e del centro-nord e quelle del sud perché le truppe del sud sono normanne fondamentalmente allora per quanto riguarda le truppe sono tutte queste ragazzi allora le nostre unità d'elite sono diverse perché noi abbiamo unità d'elite a cavallo e sono fortissime i cavalieri di San Giacomo sono veramente forti armi a una mano arma a due mani e arma inastata 265 40 di lancio 130 di forma fisica che non è poco 200 di equitazione ma sostanzialmente sono loro le truppe dell'elite italiane sono i balestrieri più forti di tutta la mondo e sono gli amatissimi campioni genovesi con balestre e balestriere genovese nella sua versione d'elite nella sua versione campione perché nelle truppe normali noi abbiamo la possibilità di avere i contadini spearmen i veterani e diciamo la versione più avanzata notate come non vi siano spadaccini nel ramo normale ma abbiamo gli italian light scout ok gli italian light scout che possono combattere anche a piedi perché se guardate le caratteristiche in arma ad una mano e in arma a due mani sono comunque migliori rispetto all'italian axman e all'italian swordsman e poi abbiamo ovviamente il balestriere genovese pesante non d'elite che ha comunque un 120 di balestra non sono presenti arcieri ragazzi e così via discorrendo ci sono ci sono un sacco di truppe poi ovviamente si possono reclutare poi da notare siccome con la cultura italiana loro hanno raggruppato le varie città-stato noi abbiamo presento delle truppe genovesi abbiamo dentro i cavalieri di San Giacomo abbiamo dentro anche i pisani per esempio perché il pisannait che è un'altra tipologia di truppa d'elite della cultura italiana è differente rispetto al cavaliere di San Giacomo vedete che le caratteristiche sono differenti questo è meno forte da quel punto di vista lì capite ci sono i marin i marin genovesi i marinai base il pisane sailor che è il livello il livello base insomma ci sono diversi rami nobili per ognuna delle fazioni e questo è veramente figo Dick dato che ha iniziato già due campagne magnifiche su banal quale porterai avanti io porterò avanti se tutto andrà bene questa e vi spiego perché allora la campagna che stiamo portando avanti con Santippo per quanto mi stia piacendo molto ha sempre qualcosa che mi dà fastidio ovvero questo miscuglio di truppe vanilla con le truppe della mod stessa cioè se è una mod ambientata nell'epoca classica con cartagine perché mi devo trovare il catafratto bizantino cioè capite mi dà molto fastidio ok mentre invece qui secondo me ci siamo alla grande allora signori allora vi faccio vedere un po' il nostro personaggio che è l'embe lumette perché guarda che lui è un figo della madonna è innanzitutto generoso è onesto ed è clemente e soprattutto lui è un rubacuori perché ha 30 di fascino e 5 in sociale queste queste caratteristiche sono date dalle perk che io sono andato a scegliere io l'ho scelto fondamentalmente molto incentrato su quello che poteva essere un italiano ovvero comunque una persona che si dedica al commercio una persona abile nel parlare insomma le varie città-stato le forme di governo che avevamo noi insomma io penso che in questo modo riusciamo ad impersonificarlo un pochino meglio non ho ancora assegnato i tre punti di abilità perché questo volevo farlo insieme a voi obiettivo riunire l'Italia vediamo perché allora voi dovete sapere che nonostante noi siamo di cultura italiana si parte che non abbiamo bandiera fondamentalmente quindi dobbiamo schillare dobbiamo fare cose intanto il fascino lui è uno che ingravida lui è estremamente virile ok e su questo non transigo poi per quanto riguarda invece i punti per alzare allora da buon italiano lui non può che dobbiamo migliorare assolutamente l'arma ad una mano perché è veramente imbarazzante e poi direi aumentiamogli anche l'arma innastata per quanto riguarda il punto attributo io andrei ad exploitare ancora di più l'abilità di la Soch Sochmel la socialità mio signore la socialità lui è un animale sociale buonasera ragazzi io sono Alberto da Giussano sì e questo qua non è un quadrifoglio ma è la rosa camuna lombarda perché la croce di San Giorgio non c'era va bene ok ciao Nate allora noi partiamo a Parigi obiettivo noi dobbiamo mettere da parte abbastanza soldi per riuscire a comprare e restare in attivo dei muli dei cavalli da trasporto e la famosa barchetta perché sì anche in questa mod sono presenti le flotte grazie mille Tommy che regala un abbonamento al signor Gigi Luigi cosa cambia dalle truppe del sud Italia rispetto al nord Italia tutto cambia tutto perché sono normanne te le faccio vedere truppe siciliane i siciliani invece hanno i cavalieri normanni che sono fortissimi fortissimi questi a cavallo ragazzi sono devastanti hanno 260 di arma inastata 260 di arma ad una mano hanno la spada e 260 di equitazione oltre a questo oltre a questo fatemi vedere un attimo che cavolo di armature hanno cioè questi hanno levi male vest che dà 72 di protezione corpo cioè le armature cambiano poi ci sono vari tipi di armature capite per ognuno di loro ma sono veramente forti 85 perché questo ha il chainmail all'usbergo mio signore è l'usbergone e hanno il palmazian che è una cavalcatura nobile cioè tutte le truppe nobili al loro massimo livello hanno bisogno di una cavalcatura nobile quindi non una cavalcatura da guerra costano tantissimo no le battaglie navali non ci sono come fanno a fare le battaglie navali poi questo periodo qua che battaglie navali vuoi che facessero si avvicinavano e combattevano si tiravano le frecce cioè grazie franchino a chi ha regalato un abbonamento al signor Pioli Russi congratulations dunque dai iniziamo a fare i nostri giri dell'amore dobbiamo tirare su delle truppe no e prendere del cibo io direi andiamo a Parigi Alberto è salito di livello di già ma ha fatto un passo ha fatto un passo allora vediamo un po' io onestamente forma fisica equitazione arma inastata io gli darei uno di balestra perché siamo italiani voglio la balestra ve lo dico come vorresti formare l'esercito e questo lo andiamo a vedere strada facendo adesso dobbiamo fare insomma soldi fare compravendite fare cose allora qui abbiamo le olivia 10 che non sono affatto male quanto costano qui i cavalli costano troppo allora non sovraccarichiamoci non sovraccarichiamoci possiamo reclutare truppe qui allora qui ci sono le Frankish Levis le Frankish Levis fanno parte del ramo del Tech Tree francese popolano e loro diventano sergenti con questo qui è l'elmo tipico del del regno di Francia medievale ma early medieval i francesi che combattevano contro le invasioni vichinghe utilizzavano un elmo di questo tipo Frankish Sergeant Swordsman Frankish Swordsman aspetta che vi faccio vedere anche le altre le altre tipologie di armature sono differenti guardate che bello il crocifisso e poi abbiamo i loro balestrieri classici prendiamo delle truppe perché io ho una paura fottuta di essere intercettato dai briganti Parigi comunque va detto le olive a 10 sono buone sono molto buone le olive a 10 andrei a maxare queste olive noi potremmo fare il carico a 130 e possiamo andare a vedere un po' cosa c'è qua in giro nant hanno le olive potremmo andare verso la zona dell'impero metz per esempio qui olive non ne hanno strasburgo non ne hanno colonia non ne hanno potrebbe essere un viaggio interessante allora iniziamo a spostarci da qua andiamo su da reims sacro romano impero Brunelli allora l'Italia è sotto il sacro romano impero no qua è papal state è papato no Ferrara è sotto la repubblica di Venezia è sotto la repubblica di Venezia mentre invece Genova Verona c'è tutta questa parte qua Piemonte Lombardia sono sotto il sacro romano impero Grosseto Firenze Orbetello invece sono domini papali sono domini papali dunque noi dobbiamo andare a reims ah predoni dunque allora vediamo se qua c'è qualcosa da prendere direi madonna la pelliccia 1169 madonna tiriamo su un paio di truppe così aumenta anche la capacità di trasporto e io direi facciamoci un giro a Metz passando da Verdun feels over done and the battle has begun no non lo so se usare la Francia per la riunificazione non lo so perché noi comunque ragazzi dobbiamo andare contro il sacro romano impero quindi dobbiamo scegliere attentamente con che regno affrontare la sfida perché il sacro romano impero ragazzi è cazzutissimo ecco aspetta un attimo vi faccio vedere questo qui invece sono le truppe imperiali popolane gli Erban poi abbiamo gli Spearmen veteran milizia Imperial Sergeant Spearmen nelle loro varie forme gli Spadaccini di Suabia e signori gli Zweander Spadaccini a due mani senza scudo con la Zweander che è la spada a due mani tedesca Imperial Sergeant Crossbowmen Imperial Milizia Axemen e le Milizia Crossbowmen Genova è nell'impero Genova è nell'impero dobbiamo decidere strada facendo a qui abbiamo il burro il burro del brando burro a 14 è buono compriamo e abbandoniamo ora io direi facciamo un salto a mezzo noi quanto paghiamo di truppe 22 e abbiamo quanti uomini 12 vediamo qua cosa si può prendere burro a 13 è un affare colossale andiamo a vendere il burro mio signore andiamo a vendere il burro noi potremmo andare verso Colonia c'è anche Darth Fener nell'impero ciao Roby no Roma è stato papale Roma è stato papale guardate quanto costano i cavalieri guardate quanto costano i cavalieri questi sono i cavalieri germanici abbiamo gli Absteiner Ritter che sono i dismounted e poi abbiamo i Ritter imperiali ragazzi che sono qualcosa di bellissimo anche se anche se notate notate loro cos'hanno hanno il Palmazian anche loro sono comunque meno corazzati ad esempio dei cavalieri normanni siciliani sono meno corazzati dei cavalieri normanni siciliani io non li prendo i cavalieri costano troppo 350 adesso onestamente mi sembra eccessivo andiamo andiamo verso Colonia chi è Floris è un mio parente cosa ti sei perso Vucchino non ti sei perso nulla abbiamo appena iniziato con Albertone da Giussano ecco qui per esempio abbiamo il Lino a7 che non è affatto male non è affatto male il Lino a7 io direi investiamoci un 70 anche se andiamo over capacity di poco quindi non andiamo a ridurre troppo la nostra velocità andiamo verso Colonia e secondo me potremmo addentrarci nelle zone di Hamburgo perché qua ci sono un sacco di risorse interessanti e soprattutto e soprattutto guarda qua Giallino a 37 guarda il Lino a 37 e lo vendiamo subito abbiamo generato guadagno le olive a 46 signori le olive a 46 fino a 30 si possono vendere le vendiamo e qua cosa possiamo comprare a buon prezzo vediamo un po' allora minerale di ferro a 61 altino lana 139 attrezzi direi che vendiamo e basta qua truppe da reclutare non ce ne sono quindi direi abbandoniamo e addentriamoci in questo territorio ambiguo per esempio andiamo a Norimberga la nostra città natale non è Venezia mio signore c'ho la rosa camuna della Lombardia è Milano scusa niente qua soltanto nobili qua già il burro costa troppo 32 non va bene non va bene vediamo a Minden quanto può valere il ferro 35 facciamo il carico facciamo il carico e ci dirigiamo verso Hamburgo qua c'è per esempio l'argento ecco questi vedi sono già di cultura Nordic Lubecca Guards Wolfgast madonna quante città che hanno aggiunto ma che bello ma che bello creative assembly medieval tremelo oddio ho visto dei banditi pirati 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 commercio allora qua per esempio qua per esempio vedi il ferro non conviene venderlo neanche il burro qua conviene casso conviene casso qui riusciamo a prendere l'argento a Lumbur quanto costa quanto paghiamo noi 26 202 alto 202 è alto allora fammi capire qua allora abbiamo Praga sotto Praga ha due di cavalli quindi secondo me potremmo dirigerci verso Praga per comprare i muli potremmo andare verso Praga per comprare i muli facciamo tappa Magdeburgo così reclutiamo reclutiamo qualcosina eh vabbè ma solo nobili ci sono qua 48 seta grezza vai a Friburgo madonna erano tanti quelli erano tanti qui abbiamo la seta grezza a 30 prendiamo qualcosina sai che andare a Praga è pericoloso madonna cosa c'è qua madonna quanta roba c'è qua aiuto madonna non ci sono cavalli qui burro a 15 compriamolo se riusciamo a prendere questi predoni non riusciamo burro a 16 scendiamo di qua dobbiamo andare a Vienna Leopoldo è l'imperatore Leopoldo no non so se sia l'imperatore vai a Vienna Alberto è salito di livello in che cosa ha schillato ci ha dato un punto per alzare il limite alziamolo in medicine ok allora commercio qua abbiamo il minerale di ferro che potremmo vendere fino a 50 qui abbiamo il pesce a 9 vendibile a colonia e il legno massiccio a 13 che comunque non è male 168 capienza superata non ce lo possiamo permettere io andrei verso andrei verso Venezia 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 cosa c'è c'è il cotone a Venezia cotone a Padova grano a Ferrara sale a Pula potrebbe essere interessante madonna quanti banditi ci sono lì ecco la seta grezza 86 è venduta bene la vendiamo tutta il burro 87 lo vendiamo fino a 70 il legno massello lo vendiamo fino a 60 abbiamo fatto 1000 cosa possiamo comprare qui il sale equivale 34 andiamo a vedere nell'insediamento che produce sale di Pula a quanto riusciamo a prenderlo 41 41 41 41 41 andiamo a prenderci il cotone la seta pardon gli antenati del Brunelli parleranno sicuramente troppo gli antenati del Brunelli allora quanto seta grezza 17 oddio mio grano a 6 5 80 noi siamo pesanti adesso io direi andiamo a Genova è un sovraccarico leggero però non ci penalizza più di tanto non ci penalizza più di tanto guarda guarda il ferro qua guarda il ferro qua andiamo 3 91 il grano a 5 lo possiamo comprare però i cavalli ma sapete che facciamo fatica a trovare i muli raga fammo fatica a trovare i muli legno massello argilla 5 hamburgo lo vendi a 68 allora aspetta un attimo aspetta un attimo aspetta un attimo aspetta un attimo facciamo un giro in Italia ok ok sotto il 2 5 non possiamo andare di velocità se no siamo troppo lenti Firenze Firenze che non è città ragazzo mio ci sono dei limiti abbastanza importanti insomma allora legno 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 massello a 68 minerali di ferro a 144 fino a 100 vendiamo l'argilla l'abbiamo pagata a 7 ma non gliela voglio vendere vendiamo questo la seta grezza a 77 fino a 60 vendiamo il burro a 71 fino a 60 vendiamo qui a Roma mi viene da pensare che non c'è niente da comprare a buon prezzo perché ok abbandona io direi andiamo a Fabriano non a comprare la carta ma a vedere se riusciamo a prendere un po' di lana cara molto cara burro a 100 via seta grezza 89 il grano a 33 e aspetta però e abbiamo schillato in commercio allora penalità al prezzo di vendita dei beni commerciali perfetto molto bene e noi questa perk iniziamo a buttarla sulla forma fisica ci teniamo uno di cibo scendiamo verso Frosinone vediamo quale sale quanto costa 52 troppo troppo dimmi che a Frosinone hanno il formaggio qualcosa da mangiare c'è assolutamente no andiamo a Napoli ue ue signo pascale secondo il papa è sua santità il papa qui potremmo vendere uno di questi uno di questi facciamo 112 dov'è che producono cibo qua Salerno andiamo a Salerno a prendere la pasta andiamo a Salerno a prendere la pasta sennò crepiamo di fame qua minchia quanto costa però prendiamone due giusto per arrivare per arrivare dove non c'è cibo qua nel sud cazzo sai che in italia conviene veramente vai verso genova va che è città di 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 mercanti ciao bp si matteo è bellissima la moda veramente mi fa mi piace tantissimo c'è a frosinone ok frosinone ci pagherebbero il ferro 96 che è un insediamento minore vendiamolo subito mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia nord dimmi che avete dei muli per favore vi prego sì ma costano troppo sti muli io non voglio dargli più di 80 per un cavolo di mulo andiamo dal brunelli a vedere se ci fa un buon prezzo per per il grano qua se no lo frustiamo fa culo brunelli no no 55 col cavolo ma stiamo scherzando questo non è fuori una bella svedese ma io voglio una siciliana caliente onestamente grano a 5 compratutto argilla 5 compratutto lo so che siamo appesantiti lo so che siamo appesantiti solo che ci vuole del tempo prima che i villaggi minori inizino a generare muli e tutte queste cose qua qua ci dobbiamo venire con con un quantitativo di muli spaventoso fatemi vedere un po la mappa dobbiamo capire una città che potrebbe avere i cavalli a buon prezzo forse belgrado noi siamo carichi di cosa noi siamo carichi di argilla a venezia l'argilla la vendiamo setta e argilla a venezia già abbiamo fatto un bel po di soldi siciliana normanna uguale svedese vedi lord richard mette tutti d'accordo mio signore tac tac e via dai albertone albertone andiamo a venezia casso mauricio sta arrivando l'alberto chi è che di voi è normanno siciliano un metro e novanta occhi azzurri biondo qualcuno di origine normanna magari chiediamo se ha una sorella da presentare al nostro alberto setta settantacinque venduta stra bene grano a 16 argilla a 30 venduta benissimo la vendiamo fino a 25 venezia non conviene comprare niente a venezia conviene solo vendere allora vendiamo fino a 20 e vendiamo il grano e torniamo a prendere di là allora padova padova che era la setta però padova è nell'impero venezia repubblica a se stante quindi già qui il grano a 14 madonna setta 17 comprala tutta comprala tutta poi a venezia e l'inflazione se ne va lord richard è un siciliano gigante anche mattia castiglione è un siciliano gigante bonni io però senza occhi azzurri ho un misto di capelli biondi e marroni vedi quanti normanni che abbiamo mio signore in chat eh guarda qua la seta guardala la seta vendi fino a 40 abbiamo fatto un altro millino ora io vorrei capire ma noi come siamo equipaggiati perché se ci attaccano noi abbiamo uno schifosissimo arco ok che fa schifo un cavallo santer ma davvero il santer che però il santer può trasportare cose quindi se io lo metto qua tatan abbiamo 100 posti in più andiamo a piedi mio signore bisogna ottimizzare e tarari e tararà e compriamo ancora la seta bene compro anche il grano a 5 vai a Brescia francopio ha un fratello che cosa vuol dire un fratello io non voglio un fratello noi dobbiamo trovare una sorella dovete avere una sorella da dare in pasto al nostro Alberto è l'Alberto mio signore allora io direi andiamo a Genova e poi facciamo il sud della Francia facciamo Marsiglia andiamo qua in Giappone sembra il Giappone oppure potremmo fare Marsiglia e Lione ritorniamo su scegliete voi verso la Spagna o verso l'impero andiamo a Marsiglia ciao io ho una cugina svedese ma non è bionda non ha gli occhi azzurri e non è alta c'è un comodino praticamente è questo che volevi dire vino bello grande oddio giretto in Spagna quando un albero single arriva un alberto singolo arrivano in città le donzelle locali cadono ai suoi italici piedi no Alberto schiocca le dita e la donzella si prostra cioè scusa vai una bella vichinga sì che poi mi arriva una come brandy tart è un disastro la setta grezza 60 l'argilla 37 ma sai cosa ti dico noi qui potremmo vendere ci teniamo due di grano per tornare a Genova e facciamo il carico a Genova a sto punto mi gira un po' il culo pagare i cavalli 108 però due li prendo per forza cioè a Genova si può comprare il Pellamea o Cristo non c'è niente che possiamo vendere a Genova l'olio di crambi possiamo venderlo a Genova per 207 o a Venezia per 307 proviamo a fare un investimento di olio giusto uno perché tanto voglio comprare in Italia e vendere in Francia al contrario non vale la pena vediamo qua intanto a Brignol se aspetta un attimo che voglio pestare questi predoni sudici stai zitto stai zitto cretino che adesso ti impalo la mappa è grandissima la mappa è grandissima cazzo siamo a piedi noi io e l'arco siamo di due mondi differenti abbiamo bagnato la nostra spada del ciula di sangue eh dai uno di grano non è male uno di grano scarpe di cuoio malconce veste stracciata il copricapo consumato il cappuccio del pellegrino leggendario tatà siamo dei pellegrini leggendari oh yes cream mi piace il pellegrino leggendario io potrei essere l'uomo più felice del mondo se trovassi dei muli a poco prezzo ok o dei samper o qualcosa che trai una robe col cazzo minchia quanto costano i cavalli madonna il cappello dei maranza no aspetta lui è maranza dentro tu non hai visto lui com'è lui ha un taglio di capelli estremamente maranza aspetta guardalo è maranzissimo lui è maranzissimo lo chiamavano il maranza di corso buonarroti allora adesso andiamo a fare il carico a genova andiamo cuneo qui abbiamo grano a 5 compra burro a 18 compra 1 legno eh però no aspetta 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 grano a 5 burro a 18 legno a 13 vediamo il mercato di genova magari al mercato di genova paghiamo pure meno classico maranza di piazza duomo esatto nel 1100 ma il duomo non c'era quindi allora l'olio di crambi dovevamo venderlo a venezia qui abbiamo il grano a 4 il pesce a 6 madonna libido non hanno legno qui davvero il porcello a 36 raga c'è 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 l'argilla a 4 marsiglia a 38 scusa un attimo ma ce lo facciamo un viaggio a marsiglia solo di argilla ci mettiamo 12 anni come aspetta vai a prendere il cibo stronzo stiamo morendo di fame no mi muoiono gli uomini no esagerato come al solito ah il dio profitto ha preso il sopravvento su di me il dio profitto ha preso il sopravvento su di me ci vorrà una settimana per arrivare a marsiglia noi paghiamo 42 al giorno il vero problema è che non troviamo una zona dove comprare cavalli a poco prezzo o proviamo a fare un grande viaggio verso est verso le steppe ok e nel mentre vendiamo qualcosina roba del genere per pagarci il viaggio e compriamo i cavalli là perché qua cavalli non ce ne sono cioè muli costano troppo vado a trovare il pube a genova il pube d'oro no non si può vendere non c'è la gilda qui mi sembra o c'è non ho visto adesso che arriviamo a marsiglia se arriveremo a marsiglia prima o poi se arriveremo a marsiglia prima o poi buonasera Pio dov'è l'acqua devo andare acqua era sul tavolino del piacere ah bella fresca allora Matteo dice dai ci facciamo un giro verso i Rus di Kiev che quella è una zona che abbiamo esplorato poco così passiamo anche dai Balcani intanto presentiamo il Maranza a Boris vediamo che cosa succede intanto uno col cappuccio tattico quell'altro con la tuta dell'Adidas lucida siamo a posto no c'è il negozio con tutte le eh adesso guardo non lo so non lo so quanto sono alto 1,78 sono un nano mio signore allora vendiamo questa roba qua 285 ci siamo ripagati sostanzialmente il viaggio oh cavalli finalmente molto bene ma noi siamo pieni di cosa noi siamo pieni di argilla che abbiamo comprato a 7 giusto a 4 l'abbiamo comprata quindi io direi fino a 10 vendiamo fino a 10 vendiamo Alberto è salito di livello un punto attributo e aumentiamo il soc perché prima skilliamo meglio è e questo qua lo andiamo a buttare in tattica anzi no in esplorazione aspetta ma questo gliel'abbiamo dato madonna questo skiller ha in con me se riusciamo a fare due o tre scambi da mille di stock skilliamo che è una mia proprio qua producono le olive ma scusami ma le olive qui quanto costano? 36 mi stanno prendendo un po' in giro mi stanno prendendo un po' in giro allora proviamo ad andare giù di qua dai andiamo proviamo ad andare in spagna voi volevate andare nelle steppe volevate andare andiamo nelle steppe su su torniamo al mercato di genova che là si compra tutto si compra tutto bene anche comprare una nave non farebbe schifo come come diazze a osta cazzo andiamo a vedere se a osta riusciamo a comprare la lana e cose strane ragazzi la lana 15 è un business il grano a 4 si compra il burro a 12 si compra il formaggio a 16 si compra c'è se mica qua far ballare le scimmie mio signore so io almeno a genova iniziamo a vedere anche i prezzi delle navi perché le navi ci permetterebbero di spostarci ad una velocità maggiore Alberto ha perso il suo tratto generoso ma sì ma la generosità lasciamola ai poveri scusa insomma noi siamo siamo nel business siamo nel business qua siamo nel business senti senti io devo fare questo investimento se no non mi schiodo più da qua allora controlliamo andiamo a Marsiglia un'altra volta no dai andiamo a Venezia va o a Roma a Roma secondo me si vende bene tutto tranne la lana forse tranne la lana Napoli sotto assedio da parte di chi scusa il Papa sta attaccando i normanni costa troppo viaggiare senza barca seta grezza 55 possiamo vendere fino a 50 l'argilla 47 la vendiamo fino a 30 il grano a 25 sti gran cazzi cioè nel senso vendi tieni 2 e direi investiamo in cavalli teniamo 500 di utile fino a 15 vendiamo abbandona passiamo da Ancona non voglio andare di là commercio sale a 29 ma a Genova si può comprare tutto porca loca oh c'è questo quadrilatero qua è una roba illegale comunque veramente illegale allora a Venezia non possiamo vendere direi andiamo verso Yatara almeno andiamo verso est così siete contenti qua cosa c'è si stanno legnando e l'impero l'impero ha attaccato Venezia Giovanni Vitale tu mi hai detto di rimettermi il cavallo e non possiamo ho venduto la sella andiamo a piedi allora ciao 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 non vale la pena possiamo andare a Belgrado possiamo facciamo Belgrado cazzo di rumore è questo ha vinto un torno un hideout prendiamo dei cavalli Sampter e ripaghiamoci con la seta e con un po' di argilla ok qui dobbiamo andare possiamo andare a Bucarest per andare a Bucarest da dove si passa da qui tra le fresche frasche passa di qua che vediamo se magari hanno dei cavallini da darci prendiamo tre cavalli Sampter andiamo a Craiova siamo in Romania mio signore andiamo in Romania qua ci sono anche i bovini truppe cumane qua burro a 11 compra grano a 12 no porca loca lana 14 va benissimo formaggio a 17 compra dopo Bucarest potremmo andare ad Agi Bay ma se adesso noi possiamo no andiamo verso Bucarest buonasera stanco 99 come stai caro presta blestar numma numma ye numma numma ye numma numma ye numma numma ye burro a 9 compralo tutto carne a 15 argilla a 4 fino a 2000 posso investire lana a 12 attrezzi a 40 attrezzi a 40 3.500 e abbiamo 300 da parte ma sai che qua onestamente ci conviene tornare in Italia a vendere oppure possiamo andare all'impero nell'impero andiamo a Costantinopoli secondo me a Costantinopoli quella roba lì la vendiamo bene ciao Rainbow sono contento cos'è che segui di solito qual'è il tuo gioco tra quelli che portiamo che preferisci siamo nei nei territori bise do you remember battaglia di adrenopoli ma noi abbiamo aumentato l'esplorazione io direi corridore notturno perché tanto il giorno e la notte durano più o meno la stessa roba no però questo mi dà 5 in più di notte e quindi sia più veloci il cicciolo il cicciolo il mondo è tuo con questi attrezzi puoi giocare il burro l'abbiamo pagato quanto il burro fino a 40 lo vendo io fino a 40 lo vendo il burro qua abbiamo dei samter presi a prezzo buono 225 olivia 47 pesce a 23 lana 38 pellame a 50 vasellame a 68 non è malaccio non è malaccio prendine 3 vai verso Costantinapoli facciamo un giro in Turchia eh no qua è vero bisogna prendere il ferry boat vaffanculo il ferry boat costa un sacco di soldi dobbiamo vendere roba a Costantinopoli eh abbiamo denari per mantenere RP o i4 poi mi piace molto anche banner loro sono contento abitanti di Eracleia allora vasellame a 112 vedi mio signore qua vogliono tanti vasetti da notte per il resto direi vendiamo e andiamo verso nord e potremmo andare a Bucarest potremmo andare a Bucarest fullare il carico che dite abbiamo un malus mandria vai a Dajibay andiamo verso Poltava e andiamo a Teodoro abbiamo sì e no cinque giorni cinque giorni liberi eh cinque giorni nei quali non paghiamo mantenimento no non devi andare qua testa di cazzo devi andare qua non ci va cinque giorni non ci bastano allora dobbiamo fare tappa a Bucarest e vendere qualcosa eh pian piano qui i soldi li stiamo facendo mio signore ne vedi pochi ma sian carichi di roba valorosa se no io torno in Italia in Italia sono sicuro che sta roba qua la vendiamo bene quanto è grande la mappa la mappa è enorme ragazzi la mappa è enorme cioè la mappa è veramente enorme siamo arrivati intanto eh ma qua c'è poco da vendere porca puttana qua è poco da vendere qua c'è da comprare e niente e niente eeeh vacca boia qual è la città più vicina eh bel grado a due giorni non ci bastano abbiamo troppi cavalli perderemo perderemo sicuramente coesio cioè morale non mi interessa il vero problema è se a bel grado non riusciamo a vendere niente dovremo svendere qualcosa e quello mi farebbe girare un po' le palle allora è un po' rognosa da scaricare perché ci sono diverse sub mode fate tutto su nexus non fate niente da steam consiglio perché almeno siete sicuri che fino a quando non deciderete voi di aggiornarla non vi si aggiorna qualcosa se no è un disastro ci arriviamo al pelo ci arriviamo al pelo arriviamo in nottata c'è un torneo però noi non abbiamo non abbiamo un'armatura quindi probabilmente prenderemo il pipo prenderemo il pipo beh gli attrezzi li possiamo vendere vendiamo gli attrezzi fino a 90 facciamo 700 questo dovrebbe darci abbastanza abbastanza soldi per poter tornare verso l'Italia eh sto bonus mandri è una rottura di balle abbiamo troppi cavalli non cresce il party dobbiamo combattere ma non ho uno scudo cioè come faccio a fare un hideout così senza scudo non ce la farò mai non ce la farò mai arrivo al boss finale dove non posso combattere contro il boss e le mie truppe che sono delle milizie prendono il pipo l'anaotto ma beh Andiamo verso Venezia Anche i tornei senza armatura Difficile Eh lo so Ma mi servono soldi Costa un sacco Una lancia ti costa 1400 Uno scudo discreto ti costa anche lì Un sacco di soldi Sono molto cari le armi in questa mod Questi non li prenderemo mai infatti Vai verso Venezia va Speravo che li bloccassero l'ora Ed entrare ad aiutare Allora vediamo Venezia A Venezia L'olio quanto l'avevano pagato? 180 Venezia città sudicia Vendibile a Cagliari a 54 Grazie al cazzo Nel senso Vendiamo Ancona e Roma Proviamo a fare il giro qua sotto Perché Genova in genere È una città dove è buono comprare Non vendere No Pordenone è già Della provincia di Venezia Vendibile a Cagliari a 54 Mi sa che dobbiamo andare in Francia Mi sa che dobbiamo andare in Francia Dannato Dannato andare ad est Perché Non dovevo andare ad est Perché nel mentre Mi sono perso tutto Tutto l'Ambaradan Magari vendiamo bene a Genova Dura qui fare soldi È dura fare soldi Più che altro Se non aumentiamo il party Facciamo fatica Adesso mi compro una sella del cazzo C'hai ragione Andiamo qui a Genova Mi compro una sella No Dai sì Attenzione Perché guarda che la devi giocare In modalità libera Questa mod Non la devi giocare In modalità storia L'argilla 2 Ma quanto costa Qua l'argilla Aspetta Allora Allora Dammi un santer Ok Fammi comprare Una sella robusta Ok Bene Ok Quanto costa uno scudo 350 Ma dove vuoi andare Con uno scudo del genere Dove vuoi andare Aspetta Fammi comprare qua Fammi comprare Fammi comprare Cazzo Che qui c'è C'è il grano A4 Qui c'è il grano A4 Andiamo in Francia In Francia di solito Ha sempre problemi di cibo Il cibo costa tantissimo In Francia Magari riusciamo a venderlo bene Richiede troppo tempo Lo smelta adesso Non E poi Non ho combattuto Non ho combattuto Ribelli E che se questi qua Cazzo Si muovessero un attimino Mi farebbero un grosso favore Siamo troppo lenti Ci abbiamo 1,37 di mandrie Porca loca Ma poi vorrei capire Ma perché ho la mandria Ah perché c'ho 28 cavalli Ah La madonna Ma quanti ne ho comprati Abbiamo più cavalli Che uomini Allora In Francia i cavalli costavano tantissimo Quindi Che non mi vengano a rompere i coglioni Vendo anche i cavalli adesso Vendo i muli Che sono più lenti Tanto hanno sempre 100 di capacità Quindi Ecco Come corro Una parolona Come corro Una parolona Carne A 103 Fino a 70 Vendiamo Lana 97 Fino a 40 Vendiamo Perfetto A mo qua costano un cazzo Ma mi pigliano per il culo Palesemente Mi stanno palesemente Pigliando per il culo Passiamo da lì e andiamo su per Parigi Dai Andiamo a Parigi A Carcassonne A Carcassonne Carcassonne è qua Dov'è Carcassonne Qui Ma no ma Non hai capito Il problema non è quello Il problema è che Mi conviene tradeare Questi sono perfino più veloci di me Ma andate a fan culo va Dai che a Parigi qua Vendiamo un po' Qua ci sono le pelli No non è vero Non è vero Nick Dipende Dipende Cioè Mi ha mandato qua a Parigi Legno a 9 Grano a 4 Eh si stanno stabilizzando i prezzi Hanno iniziato a girare le carovane Hanno iniziato a girare le carovane Passiamo da Orlean Proviamo a fare un giro in Spagna Facciamo un giro in Spagna E vediamo un po' Se riusciamo a monetizzare là sotto Oh finalmente Dio grazie Dio grazie E vediamo un giro in Spagna Andiamo le olive Andiamo verso Bordeaux O Tolosa Tristezza Eh no Coglione Coglione Lory Sei proprio un coglione Non hai guardato il prezzo Delle olive Compra ste olive Perfetto Vai Vai a Bordeaux Diciamo Bordeaux Tolosa Barcellona Oppure potremmo fare Bordeaux Nantes Così vediamo quanto costa qui l'argento No io andrei in Spagna L'argento Tanto ce l'abbiamo anche qua No dai Si dipende Dipende Io sto guardando comunque Il margine di guadagno Sto guardando Ecco vedi per esempio qua Il mulo Possiamo venderlo Ci facciamo 531 E alleggeriamo Tutto l'ambaradan Poi direi Vendiamo la lana Fino a 40 Olive a 35 Argilla a 7 Non è male Ma Genova costa 3 Chio boh Abbandona Vediamo qui Quanto costa il legno 27 Vedi non vale la pena Non è Non è conveniente Quella provincia lì Non è conveniente Perché dipende tanto Ragazzi Anche dalle polisi Che il re Di un determinato regno Applica Se poi c'hanno i dazzi alti Tu lì non guadagni un cazzo Cioè avete visto la differenza Che c'è tra Comprare a Genova E comprare in Francia Ecco il legno Da vendere E' buono A 48 Fino a 40 Vendiamo Fino a 40 Vendiamo Olive a 10 Sono comprate Abbastanza bene Minerale di ferro A 14 Ma davvero Ma io faccio incetta Fino a 20 compriamo Basta Trezzi a 41 Non sono L'argento a 45 Compra Anche attrezzi a 41 Non sono male Liberiamoci del legno Lana Fino a 35 La vendiamo Paghiamo 2005 Siamo carichi Da fare schifo Allora Dobbiamo andare Dobbiamo andare a scaricare L'argento ragazzi Perché il grosso Dell'investimento E' lì Allora Gli attrezzi Si vendono a Parigi L'argento Si vende bene Anche a Parigi Il ferro A Parigi Eh conviene andare a Parigi Conviene andare a Parigi Perché a Barcellona L'argento Sicuro lo vendi a poco C'hanno le miniere O andiamo a Marsiglia E andiamo in Italia Che secondo me Ci potrebbe anche stare In Italia Argento non ce n'è In Italia Argento non ce n'è Sì però Non mi dava i riferimenti Dell'Italia Perché è un po' Che non ci andiamo Guarda qua L'argento 140 Fino a 110 Lo vendiamo Gli attrezzi Fino a 100 Li vendiamo Il minerale Di ferro Fino a 80 Lo vendiamo Maiali a 35 Prendine due Giusto per fare Un po' Di cose suiniche Anzi fatti un giraglione Che ce l'hai qua vicino Ma no Sicuramente riesci a vendere Con un buon margine Però Tipo qua Ma vai a fanculo Giapponese Di merda Che cosa ci fai lì Che Dovevo vendere You broke my business Sudicio Io guadagno bene Con tutto Basta comprare Al prezzo giusto E vendere Al prezzo giusto La Sardegna La Sardegna Appartiene Al canossa Sardegna Non era Canossa Ok Va bene Quindi con loro Devo comprare una nave Voi datemi una nave E io vi faccio vedere Come diventare milionari Con i datteri Io sono l'uomo dei datteri Voi non capite E' meglio vendere Mille pezzi A cinque Quando li hai comprati due Che vendere Cinquanta pezzi A seicento Quando li hai pagati Quattrocento Sai come Schilli Con la quantità Eh Andiamo a 361 Madonna Madonna Me sto sentì male Guarda qua Qua cosa si può comprare La seta 9 Il legno a 6 Andiamo a Leone Porca puttana Troia Vai a Venezia Vai Vediamo se a Venezia Riusciamo a vendere qualcosa Dai raga Però C'è Caduta Roma Il papa È stato fistato Yes Yes Adesso si inizia a ragionare Adesso ragioniamo Guarda qua I porci Che abbiamo pagato Poco più di 30 Vediamo un po' di roba qua Il burro a 56 Fino a 40 Lo vendiamo Ma l'argento Questo qui lo terrei Non voglio svenderlo Proprio Vendiamo anche un po' di ferro Abbiamo fatto 3.400 Il sale a 27 Potrebbe essere buono Il sale a 27 Compriamo fino a 30 Andiamo a vendere a Vienna Andiamo nell'impero Quello profondo Quello cattivo Quello teutronico Allora Ciao Fede Vendi tutto E ricompra le merci a Genova No Si vende al prezzo giusto Non hai imparato niente Da Iva Zanicchi Che è l'unica Iva Che conosco Mio signore Il nostro Il nostro Alberto L'Iva Cioè Cos'è l'Iva Fino a 40 Vendiamo Abbiamo acquistato a 30 Di massimo Le olive le abbiamo pagate 20 di massimo Fino a 30 Vendiamo L'argilla L'abbiamo acquistata Pochissimo Io direi che fino a 10 La possiamo vendere Il burro a 8 È un affare Il burro a 8 È proprio un affare Poi non voglio sapere Come arriva il burro a destinazione Nel senso che L'uva a 39 Cara La carne a 14 È buona La setta grezza a 9 Madonna Vendiamo via qualcosa Vendiamo via Vendiamo via Vendiamo due di sale Vendiamo due di sale Andiamo a Praga Ciao Matteo Come stai caro? Quanto mi piace Il Saturday Night Live È proprio Tranquillo Ok È la live settimanale Che mi piace di più Mi rilassa Mi rilassa C'è un torneo qua Potremmo andare a prendere Un po' di pipo al torneo Cosa dite? Eh? Minerale d'argento A 110 Fino a 100 Vendiamo Il sale A 41 Fino a 40 Vendiamo Il pesce a 19 Possiamo venderlo L'oliva a 54 Le possiamo vendere L'argilla a 13 Ne vendiamo qualcosina Non troppo Non voglio ingolosirli Il burro a 8 Si compra La seta grezza a 9 Si fa proprio incetta E vendiamo questo A questo punto Basserei anche questo Fino a 35 Vendilo tutto Abbiamo fatto Prendiamo seta grezza 530 Va bene Perché tanto poi No Non possiamo Allora Dove andiamo? Potremmo andare ad Hamburgo Cosa vuol dire Milan 215 Scusa Ah il Monza Ah ok Lo so Raven Lo so Raven Ma era notte Dovevo stare fermo Se sto fermo un giorno Poi butto via Dei soldi di salario Ecco Vedi qua Sti Sampter Per esempio A 118 Uno lo venderei Venderei anche Un mulo Senti sto Olio qua Vaffanculo Vai via Poi direi Questo grano Possiamo anche Venderne qualcosa Capienza superata Ma non mi interessa Perché tanto abbiamo Malusmandria Io direi Possiamo provare A andare a Ribe In Danimarca Qua non ci siamo Neancora stati Qua cos'hanno? Qua sicuro Non riusciamo A vendere il pesce Hanno solo quello Sì ma Ho il Malusmandria Ragazzi Ho troppi Quando tu hai Più 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 cavalli Più bestie In generale Compresi i suini Rispetto agli uomini Del tuo party Ti becchi il Malusmandria E vai più lento Io più lento vado Più mi costa Ogni singolo viaggio Tac Il burro a 33 Ci si può Spargere di burro Legno massello Quanto l'abbiamo pagato? Credo poco Se l'abbiamo preso a Genova Fino a 20 Lo vendiamo Basta Non voglio fare sconti Qua si compra qualcosa Decentemente Attrezzi a 64 Però il mercato Degli attrezzi Noi dobbiamo cercare Di ottimizzare La vendita Per poi dopo Oh c'è un torneo Per poi dopo Andare a Genova Comprare Comprare anche il doge E Ma cosa sono Le asce da lancio Da predone Oddio Cazzo Cazzo c'ho la lancia Ciao Ciao Scappa Mi sta inseguendo Sento il soffiato sul collo Aiutami Non devi massacrare me Devi massacrare lui Raga mi aiutate Uccidetelo vi prego Non ho i soldi De che me li porto a spasso Prendeteli coi cavalli Prendeteli Con sti cazzo di cavalli Oddio Sento il loro fiato sul collo C'è un cavallo 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 Porca puttana Mollami Mio signore Non ho lo scudo Mio signore Non ho lo scudo Gli ho spaccato lo scudo No Minchia si è rotta la lancia Cazzo Mi si è rotta la lancia Mi si è rotta la lancia Sì ma fra Ma tu dimmi se devo andare a pugni Ma mi sa che gli si è rotta l'arma anche a questo qua Ma non c'è un'arma in giro qua Sì qua c'è uno scudo Io gli vado addosso col cavallo Venite di qua che poi io devo correre dall'altra parte Che cazzo ho preso io qua Perché ti vengo addosso Cavaliere devi andare di là brutto porco Se me li porti lì vicino alla lancia Io come cazzo faccio a prendere Che inseguono lui Che inseguono lui Eh no questo deve venire da me Madonna È il combattimento più stupido che io abbia mai visto È il combattimento più stupido che io abbia mai visto Poi non abbiamo un'armatura Cioè hai capito che Questi cicci Ah Aia Eh fanculo 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 Eh amo questo prende il cazzo Cioè Tutto Tutto è nelle mani sue Adesso capite perché non voglio fare i tornei Se non ho un'armatura È nella mod È nella mod Si spaccano le armi adesso Cioè Capito Vabbè senti Saltiamo il match attuale Oh Siamo passati Cos'è che ho adesso Siamo passati Eh ciao Sono morto Figurati 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 Fatemi fare gli uno contro uno Che Madonna sti companion di merda Siamo passati lo stesso Non si sa come Dov'è? Oh cazzo Porca di quella troia Madonna Madonna Che armi di merda Datemi uno scudo e una spada Sti sudici bastardi Fanculo Non li faccio più i tornei Finché non ho una cazzo di armatura E uno scudo Madonna Almeno l'armatura Questa qua prende due colpi Sei morto Ma va Fanculo va Che nervoso Mamma mia Che schifo ragazzi Che schifo Combattere con ste armi Da sudicio Vichingo Di merda Plebei Dovete morire tutti Andiamo in Francia No aspetta Aspetta Sono incazzato Devo capire un attimo una cosa Possiamo andare verso Parigi Oh finalmente 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 È aumentato il party Sì possiamo prendere su qualche uomo in più Almeno Riduciamo il malus mandria Quanto costa l'argento qua Eh costa troppo l'armatura Non c'ho abbastanza soldi per un'armatura Ragazzi Cioè serve del margine comunque L'argento a 86 Troppo 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 Fammi vedere ad Hamburgo Quanto vale l'argento C'è un torneo ad Hamburgo Quanto costa 90 Il ferro a 37 Sarebbe comprato bene Il ferro a 37 Sarebbe Comprato bene Compriamo del ferro Allora no La smithing guild non c'è Quindi dobbiamo comprare per forza da qua E vediamo le armature ragazzi Così vedete quanto cazzo costano E vi rendete conto Che noi non possiamo permettercene un'armatura C'è soltanto le spallotte Costano 1.800 Cioè Noi abbiamo un'armatura che ha 16 No? Di protezione corpo Questa che ha 19 Costa 1.900 Cioè Capito? Non vale la pena Il problema grosso è che noi abbiamo anche una spada di merda Vediamo se abbiamo maggior fortuna qui No la nave costa troppo Le navi costano La dinghy Che è quella più piccola Costa 4.000 E non ci sta sopra neanche il nostro party Quindi Figurati Ecco qua ci sono degli stivali Con le piastre lamerlari No? Vincere questo torneo Non sarebbe male Io non scommetto Perché Cosa abbiamo? Siamo a piedi Ecco vai via Fagli scannare Tanto ne resterà uno solo E poi faccio l'1v1 Vaffanculo Perché io non mi fido di Va Mi amico Cacamo cazzo Proprio Sono loro Valdo Giovanni e Giacomo Bello Poi il nostro ha proprio le caratteristiche da mercante Quindi noi dobbiamo finircela tutta là Dai scommettiamo va Scommettiamo Al Jazz Dai Y Dai Dai Scommettiamo Scommettiamo Dai Dai Ahia Ma porca puttana Ma vaffanculo Mamma mia abbiamo un'abilità di equiltazione Imbarazzante Il cavallo non gira Bene Non per merito nostro ma va bene così Aia Porca troia Uff Perché è sempre lui? Perché è sempre lui che c'ha un'armatura che È come quella di Gesù Cristo? E' come quella di Gesù Cristo? E' come quella di Gesù Cristo? Fanculo È già il secondo che perdo in finale Ma che cazzo? Ma Dio Ma sempre questi che c'hanno l'armatura da 50 Devo trovarmi 60 Quanto c'ha quello lì di armatura? Dio Madonna che nervoso Dio che nervi Che nervi Che nervi Ma vaffanculo Torniamo in Francia Non devo farmi Non devo farmi ingollosire dai tornei Finché non ho un'armatura E cambia tutto quando giochi in modalità realistica E le botte le senti Non è come in easy che prendi 18 colpi e muori E c'è muori E muore lui Di fatica Di stenti Ciao Gianfranco Sì però bisogna avere l'armatura Perché Fa schifo Cioè Qua c'è un altro torneo Che non farò Non ho visto qua i prezzi dell'acquisto Sì ho capito Ma con 6.500 di budget Io non posso spenderne 4.000 per un'armatura E 1.600 per uno scudo Cioè Capisci che Diventa proibitivo dopo Una volta dobbiamo levarci il bonus di Mandria E poi dopo iniziare Iniziare a combattere i ribelli È l'unico modo per schillare Perché adesso siamo lenti per combattere contro i ribelli Siamo troppo lenti Andiamo a vedere qua le pelli quanto costano Ma in Italia allora Il Papa ha preso il pipo Da Napoli E probabilmente E Gli rimane solo Ancona Il Papa sta per morire Ecco le pellicce a 69 Sono un business clamoroso Grano ne abbiamo noi Sì Poco però Compra questo Le pellicce a quella cifra lì Sono comprate molto bene Vediamo anche qua Magari anche qua Le portiamo a casa a quel prezzo lì Noi a che livello siamo? Minchia non schigliamo Non schigliamo Possiamo diventare mercenari noi comunque Che schifo non fa Che schifo non fa Che schifo non fa E potremmo diventare i mercenari del regno di Francia Che suppongo sia in guerra Perché lì hanno un Anche qua a Parigi Non Qua si possono comprare le pellicce Allora il grano a 4 lo possiamo comprare Le pellicce a 60 Vendiglia un po' di carne Adesso secondo me possiamo andare verso la Spagna Fammi vedere il raffronto Possono vendere a Colonia Ribe Mez Però secondo me in Spagna pellicce non ce ne sono proprio Andiamo in Spagna Facciamo tappa Orlean Possiamo fare Possiamo fare i mercenari Sì Il punto qual è? Il punto è che i mercenari prendono i soldi Fintanto che il signore è in guerra Cioè Sono in guerra con l'Oli Roman Empire Chi è il re? Filippo I Che è A Parigi 825 Per entrare in fortezza Puoi anche andare a fare in culo Puoi anche andare a fare in culo Ci sono dei predoni William Nono Vai a parlare con Will Porca puttana Ok eccolo qua Dai Dai Parlaci Non riesci a star lì dietro Fra Ok Parla con il comandante dell'esercito Di Poitier Eh no vedi Dobbiamo essere di Tyre 1 Dobbiamo essere di Tyre 1 Dobbiamo farmare Dobbiamo farmare Raga Dobbiamo farmare Vai a Tolosa Qua ci sono altre pelli Vediamo se Riusciamo a prendere queste pelli Eh Romari Belli Cosa faccio? L'assalto con 26 uomini? Cioè Vuc Pasticino adorato Anche te Sudicio Andiamo a Tolosa Possiamo provare Andare in Spagna A vendere le pelli Che lì non ne hanno Qua c'hanno i datterini Io voglio una nave Qua c'è il ciocco Con un sacco d'argento Magari riusciamo A vendere le pelli Vai giù a Barcellona Sì, ma infatti quando trovo i cavalli da vendere ad un prezzo giusto li vendo Se li devo svendere no, cioè voglio almeno recuperare quello che ho speso Cristina, oddio mi sono infatuato Già qua iniziamo a ragionare Basta Voi sottovalutate Sottovalutate L'importanza di avere, di maxare il prima possibile il commercio Madonna del signore Della Madonna Alla faccia dei villaggi costa meno che nelle città E li venderemo, che te devo dire Ma adesso è già calato a 0,55 il bonus, il malus mandria Cioè È già calato di tanto Attrezzi a 102 fino a 100 vendiamo Vendiamo anche un po' di pellicce Vendiamo questa carne Grano a 12 Vendiamo un po' di grano Il mulo a 102 Andiamo a vedere se riusciamo a comprare qua i datteri ad un buon prezzo Questa è l'unica provincia in Spagna che ha i datteri Cosa? Oddio ci sono gli almoravidi in Portogallo Datteri a 18 non è male Comprali tutti Vai, 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 vai Quanto costa il crossing? 13.000 Lascia perdere, fra Via Sto cazzo 13.000 per un passaggio Ma tu hai la mamma facile? Cioè Bene tutto però Vai a Toledo Eh ma Toledo però Aspetta Devi fare il giro dell'oca Anche per Siviglia c'è da fare il giro dell'oca Beh vai prima Toledo Quanta carne mi dà a battere un animale raga? Che non mi ricordo mica 033 non è male Fino a 200 e basta Seta fino a 40 Lana fino a 40 L'argilla possiamo venderla Fino a 15 I datter li vendiamo a nord Birra 36 non è malaccio però Andiamo a Lisbona Tre pezzi a capo di Bastiame Prendiamo i piedini di maiale Festa grande qua alla corte di Francia Molto bene 5.000 L'argilla 70 non è malaccio Prendiamo i piedi di maiale Il nome della flotta, il nome della flotta lo chiamiamo, la chiamiamo come la chiamiamo, come la chiamiamo, Concordia Navighiamo per convertirvi, perfetto Allora, non abbiamo posto per un singolo uomo Perfetto Tu avevi detto gli attrezzi, eccoli qua Però sai perché non ho venduto tutto qui? Perché io adesso voglio andare dai babbuini Voglio andare dai babbuini a Rabat Jesus Christ Dai piccola rosa camuna Naviga Vai a Rabat Vai a Rabat Che noi qui secondo me abbiamo delle merci interessanti per questi qua Peccato, peccato che non abbiamo più pelli Perché secondo me qua sotto le pelli ne vende via dei prezzi esorbitanti Lo scrigno delle sette perle addirittura Ma se abbiamo una nave messa in croce Sovraccarica Sembra tipo un barcone dei migranti, mio signore Ecco qua Iniziamo Iniziamo a vendere un po' di roba qui Speravo meglio Speravo meglio Ma va bene così Allora Di solito Grazie Red Legionario da dieci mesi Si È lento Si no lo so Lo so Eh lo so Lo so Qua devo fare i banditi del deserto Rifugio individuo Ah quando fa il verso del gufo è rifugio Ok Datteri a 18 Ma i datteri io Dove cazzo ricompravo i datteri? Era Zagora? Era Bechard forse Forse era Bechard Dove si compravano i datteri a prezzi scontatisi Alberto è salito di livello Se riusciamo a fare una bella vendita Secondo me Possiamo pensare di prenderci Predoni Se ce la faremo Prendere questi predoni del deserto Dai che voglio combattere Voglio sangue Voglio sangue Che tanto di qua vai giù a Bechard Io devo andare a Bechard Dai incastrati da qualche parte Bastardo Bastardo Si si incastra Dai che si incastra Dai che si incastra da qualche parte Incastrati Mi sta tirando scemo E non lo prenderemo mai E allora vai dentro a Bechard E mica troppo però Minchia l'argilla 79 Noi l'abbiamo pagata 4 Noi l'abbiamo pagata 4 Qua i datteri a quanto vengono A 21 No No Bechard non va bene Zagor ha i datteri Zagor ha i datteri Di Fess Però questa scambia con Rabat Quindi onestamente Allora vediamo a Bechard Se riusciamo a farci Se riusciamo a farci qualcosa di decente E lo zucchetto mio signore Io vorrei comprare un elmetto aperto Uno di questi Una bronce pesante Una bronce pesante Prenditi anche dei vambracci imbottiti Sembra un boia Cioè E' il tipico milanese Cioè E' il tipico milanese Ah vendi sta roba qua Noi paghiamo 6.000 Noi paghiamo 6.000 Vendiamo un po' d'uva Vendiamo ancora un po' di ferro Fino a 70 Lo scudo Lo scudo Lo scudo Lo scudo Lo scudo Lo scudo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti I datteri a 26 Scostavano meno qua A McNess Erano 18-19 se non ricordo male Ci siamo già fermati a Zagora? Non mi ricordo Allora aspetta un attimo Me l'avete insegnato voi Spuntiamo Rabat che è dove c'è la nostra flotta Se no ci dimentichiamo Ok Datteri a 58 Non possiamo venderli Tanto qua è pieno di datteri in Marocco Poi vendi anche le frecce Vendi anche l'arco da caccia Vendi anche un po' di ferro Compra il grano a 4 Terra di opportunità Eh ma sai perché Qua ci sono pochi Il prezzo dei datteri alto Perché c'è l'Aidout Qua fes quanto costano le olive? 15 Ottimo prezzo 15 per le olive Adesso ci costerà ancora meno comprare Perché abbiamo Abbiamo lo sconto Nei villaggi Una roba Allora qui abbiamo questi Questi banditi del deserto Che sono rognosi Allora qui We've got no quarter with you Porca troia Sono cammelli Dio Merda ho venduto la lancia Ah no la lancia non ce l'avevo Ah no Grazie Attac все Domus Spetta Spetta Innanzapro , Poi Spetta 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 Troppi cavalieri Troppi cavalieri Ehi Troia levati dalle palle Cazzo diverso stupido che fa il cammello ragazzi Perché la portiamo a casa Perché la portiamo a casa Cazzo diverso Porca puttana che legnata che mi ha dato C'è l'olata in testa Cazzo diverso Dai cane Fanteria di merda tra i piedi Mi serve una lancia Mi serve una lancia Madonna mi viene da girarmi con la sedia Mi viene da girarmi con la sedia Quando devo caricare No questo è amico Aia minchia se fa ma... Eh devo stare attento Non posso più ingaggiare C'ho il minimo della vita Nooo Vaffanculo Eh questa è tosta eh Porca troia Speriamo che ce la facciano Dai 8-3 State compatti Nooo 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 Dai che siete in 5 contro 2 Cazzo Non voglio perdere il mio carico Cazzo C'è guardate quanto stanno combattendo eh Guardate 16 minuti 17 Sì Dai ne manca uno Dai che scappa Dai che scappa quello lì è sudicio No Dai 4 contro 1 Cazzo No No Dimmi di no Ti prego Dai Dovete uccidere un cazzo di uomo Sì ma così mi rende un vomito aspetta Ci avete anche la lancia Ma state fermi State fermi aspettatelo Eh ciao Minchia quella scimitarra lì Che hanno loro a cavallo è devastante Porca troia Tre colpi ti toglie tutta la vita Dai che ti vieni in frontale Minchia che parto raga Aspetta Facciamo così perché sennò non ce la farò più No No ne ha ammazzato un'altra Li ammazza tutti e tre Li ammazza tutti e tre Non ce la fanno Vi sta levando un punto vita ad ogni carica E i nostri non riescono a prenderlo Non ci voglio credere Non ci voglio credere Dio Ma vaffanculo va Vaffanculo Vaffanculo Dio Porca di quella troia Non è possibile però ogni volta eh Ma non è possibile Ma non è possibile Mo abbiamo perso tutto Abbiamo perso tutto Ma vaffanculo va Porca Madonna Ma vaffanculo Te hai i tuoi cammelli di merda Eh ma è così eh È così madonna La cavalleria fa troppa differenza No stai qua Tendi un po' va Tutto il mio carico È andato a puttane È andato a puttane hai un problema? fan cagare il cazzo questi cammelli qua di merda quelli là con la scimitarra sono illegali eh niente a mo' dobbiamo rifare dobbiamo rifare tutto dobbiamo rifare dobbiamo rifare tutto dobbiamo rifare tutto dove cazzo sono adesso quei banditi di merda speriamo in bene come on die die come on argilla 5 lo so ma dove cazzo la vendo poi argilla 5 e marrakesh die Ah Qua sta dei fendenti molto più veloci fa meno danno ma Su di me su di me su di me Mi devo per forza giocare l'uno contro uno Contro il boss e non posso permettermi di perdere Che questo cos'è una spada in cascara Oddio Speriamo che non mi faccia del male Vaffanculo pezzo di merda Vaffanculo pezzo di merda No aspetta Meno male Vaffanculo pezzo di merda Sei sempre un lercio di merda Ce la faremo a vincere un torneo adesso? Ce la faremo? Ci sono due lord locali a combattere C'è il guardaspalle Che è una merda Ok È una merda questo coso No Pochi soldi Non posso permettermi di puntare Eh che cazzo Che cazzo c'ho Ho spaccato lo scu... No Porca puttana Mi si è spaccata la lancia Mi serve una lancia Mi serve una lancia No No è tutto È un tutti contro tutti No 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 Grazie a tutti No! Stronson! 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 Grazie. Sì. Sì. Che fatica. Madonna. Angulu. Angulu. Mamma mia che fatica ragazzi. Che fatica. Oh finalmente. Danno e durata dell'astordimento dagli attacchi con scudo. Meno 4 danno subito dalla fanteria. Sei disposto a informazione muro di scudi. Maneggevolezza delle armi a una mano. Non mi prendo la maneggevolezza. Noi abbiamo anche forma fisica. Velocità di movimento in battaglia. Punti ferita. Punti ferita. Ah qua si poteva comprare qualcosa. Questo guarda spaglia è meglio del nostro. Ok. Questo per adesso tienilo. Oddio quanto pesa. Qua si poteva comprare qualcosa. Qua si poteva comprare qualcosa. A quanto li abbiamo pagati gli ultimi datteri? Aspetta fai annulla un attimo. Fai annulla un attimo. Fai annulla un attimo. Allora dobbiamo comprare i cavalli. Poi dobbiamo comprare. Diamo priorità a quello che vale di più. le olive e i datteri. E i datteri da 19. Li abbiamo fullato. Poi possiamo prendere un po' d'argilla. tre uomini. andiamo in spagna. I datteri dove possiamo venderli? e proviamo ad andare a Lisbona. Già che ci sei qua. Prova a vedere a Siviglia. qui a 42. qui a 42. ti vendo proprio un cazzo va a far culo. go to port set sail vai verso Lisbona No. 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 Grazie a tutti. Adesso abbiamo la nave e possiamo andare in Inghilterra. In Inghilterra hanno un sacco di ferro e di legno e possiamo fare i commerci nel mare del nord. Inoltre con un'armatura possiamo anche fare i tornei quando li troviamo, tipo qui a Santiago. Un po' datteri fino a 40. Suppongo non si compri niente di decente qua. Infatti. Facciamo un torneino, ragazzi. Dobbiamo diventare degli animali da torneo, raga. Qua c'è una cervelliera. Smart brain. Questo è un torneo di 1v1? Sì. 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 Porca puttana. No, l'arco no. Ma no. Ma porca puttana. Oh, meno male. Sì. No, l'arco no. Bene. Iberian dismounted noble. Questi sono quelli che hanno l'armatura da 80. Dio, madonna. Allora. Ahia! Ahia! No! Fanculo! Perché mi deve capitare il nobile in fondo, Dio? Non li butti giù questi qui, non li butti giù! Madonna, 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 che nervoso! Che nervoso! Niente da fare, niente da fare. Mi hanno perso un quantitativo di soldi schifoso! Vaffancula sti tornei di merda, veramente, veramente! Mamma mia, che nervoso! C'hanno troppa armatura, non ce la fai! Io ho un'armatura come la loro, se no ogni colpo che subisci te... Perché tanto lo scudo va giù prima o poi, quindi a furia di parare. Quando vai a segno gli fai un cazzo, quando vanno a segno loro ti vengono un terzo... Madonna! Eh, con che soldi la compro? Con che soldi la prendo una spada? Lo so anch'io che mi serve una spada! Oddio! «Chi-ho!» «Ilmero di Squash» «Ilmero di noia il tempo che vuole...» «Lo so anch'io che noia il tempo che vuole si far casa». «Ilmero di toco!» «Ilmero di bobo.» «Ilmero di sì!» 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 tutta la merce che mi ero fatto due ore di gioco per fare quello stockpile per quel cazzo di oh Dio mio ragazzi ne era sette l'argilla prima dove eravamo noi e 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 qua sti chulapegur qua cos'è che mangiano cosa fanno nella vita con chi si accoppiano qual è il loro scopo nella vita ciao space e lo so ma non ho non ho spazio perché aveva prima avevo tutti i muli adesso non ce li ho più e e e e e e non ho visto quanto costava il pellame qua ma adesso probabilmente a noi ci conviene con questo comprare dai villaggi perché abbiamo sbloccato la perk in e e e e e eth e e ma vaffanculo potremmo scendere a sto ferry point provare l'argento qua quanto costa puoi fare olio a 59 prendiamone uno prendi questa pelliccia che va bene lo stesso set save cos'è successo? rifugio individuato c'è un rifugio qua potremmo provare vai a questo ferry point cazzo il rifugio sarà qui sotto immagino o sotto lì o qua eccolo qua no lo faccio dopo vaffanculo prima vendo sto giro non mi faccio più inculare allora dove possiamo guardate che c'è mon san michel proviamo a parigi a parigi però c'hanno un sacco di di roba no secondo me dobbiamo andare di qua però magari a parigi a parte le pelli qualcosa riusciamo che c'è un sacco di vediamo un po' d'argilla qua cos'è che si può comprare un cazzo possiamo comprare cibo e lo so ma vorrei vendere prima le pelli c'ho a bordo un carico di pelli vabbè dai andiamo a fare l'ide out vada come vada moriamo con onore ok l'argento lo prendiamo dopo mica che compro l'argento poi mi inculano è un disastro eh volevo andare verso Hamburgo sì volevo andare verso Hamburgo raga allora perché mi sono portato gli arcieri the king of the north a a a a a a non c'è l'avete lanciato il scudo ma deficiente ma c'è proprio il cervello di gallina no seguiamo le fanterie voi venite con me ma porca puttana uno va di qua gli altri van di là dove cazzo andate voi teste di cazzo questi qui se mi arrancano gli arcieri me li massacrano lo so che sono veloci va bene quello che vuoi una cosa alla volta io prima avevo tutto avevo preso i cavalli poi erano troppi poi li ho venduti poi avevo tutto perfetto i ribelli ci hanno sconfitto dove un cavaliere ha fatto fuori non lo so tipo 5 dei nostri lanceri aia c'è il boss porca puttana ehi ciao madonna meno male che con quella scialissa mi prenda mi disintegra però sai che se ci ha dato quell'ascia lì potrebbe essere interessante no mi ha dato l'ascia quella di merda ma vaffanculo dai non ci voglio credere non ci voglio credere mi ha dato un'ascia di merda mi sa e infatti è la scelta del cazzo ma porca troia però almeno adesso noi abbiamo una almeno abbiamo una lancia che farà cagare ma è pur sempre una lancia e a cavallo è meglio ok va il ferry point so che distruggo non è quell'ascia grossa che aveva lui e questa è quella corta allora ricapitolando non siamo stati a Londra poi andiamo ad Hamburgo vero 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 poi allora le pellicce quel cazzo che te le vendo ti vendo l'olio di crambi e ti vendo le olive qua c'è qualcosa da comprare bene il lino a 5 il pellame a 27 ne prendiamo qualcosa gli attrezzi a 44 eh ma non c'ho spazio eh lo so il legno a 9 ma non c'ho spazio purtroppo andiamo ad Hamburgo oh cicciulanza cicciulanza è che devo vendere roba ad Hamburgo ragazzi c'è anche un torneo cosa potrebbe mai andare storto pellame a 181 si vende bene vendiamo tutto e abbiamo marginato bene qua i datteri a 98 fino a 50 li vendiamo vendiamo anche il pellame e facciamo 3000 qua cosa si può comprare si può comprare il burro e il formaggio volendo il legno a 9 non è male la seta grezza a 9 non è male ne potremmo fare mezzo carico un po' di seta iniziamo a smeltare un po' di di carbone il carbone a Parigi lo vendi a 88 il carbone a Parigi lo vendi a 88 noi potremmo comprare il legno smeltarlo venderlo di là lo so ma siccome passo di qua e poi dopo per tornare in Spagna ripasso dall'Inghilterra tra l'altro a nord di Parigi il pellame lo fabbricano anche lì quindi possiamo fare un carico di pellame e andare giù cioè in teoria meno magazzino tu tieni più profitto fai perché tanto ci ripassi di lì non è chi è Babac lo studioso? un imbecillo vai a Copenhagen do you like Sirenetta? do you like Sirenetta? qua ragazzi se avete bisogno di soldi basta chiedere li fabbrichiamo facciamo un viaggetto e abbiamo fatto diecimila ma a proposito minchia qua siamo veramente indietro vuoi andare a Novgorod? andiamo a Novgorod ma che cazzo ma Loris sei proprio imbecillo carbone a 66 vendilo scusa però vedi andare a Novgorod forse a vendere la seta? è quello il fatto luigi io gioco così ok io gioco come dici tu crei tantissimi convogli tantissime navi tantissimi muli ovviamente devi avere dei parti molto grossi vai in una città dove il grano costa tre costa tre vrum poi vai nei paesi dove magari c'è appena stata una guerra dove appena c'è stato l'assedio entri dentro e vendi il grano fare proprio lo sciacallo tipo qua il grano a 17 lo vendiamo e facciamo 2006 qui ci sono gli attrezzi a 46 che sono comprati bene compriamoli tutti il pellame a 23 compriamo fino a 26 il ferro compra tutto il ferro pelliccia 60 compra le tutte cos'è che costa 20 il porco? maiali, suini, ciccioli e la carne noi abbiamo un quantitativo di maiali comprati a 20 se noi troviamo un posto dove la carne la pagano bene possiamo macellare i suini e vendere la carne no, no, è possibile ci metti molto di più a crescere poi calcola che sto giocando anche ad un livello di difficoltà molto superiore rispetto rispetto alla campagna quell'altra grazie a tutti 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 e Novgorod è qua dovremmo fare un landing a Viborg e poi scendere fino a Novgorod che secondo me potrebbe essere anche profittevole perché a Novgorod le carovane secondo me fan fatica ad arrivare carne a 11 ma va bene ci ripassiamo dopo quando torniamo indietro, la prendiamo o la vendiamo a Parigi eh ma sai perché Elia Elia, buonanotte, Elia perdonami, sono rincoglionito perché qua fan fatica a passar le carovane sono città molto isolate vedi l'olio a 141 mio signore crambi è contento il maiale a 61 noi l'abbiamo pagato 20 però prima di vendere il maiale vediamo quanto costa la carne qua la carne è a 5 oh il pesce a 3 fra 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 ascolta ascolta ma io me sto a sentire male il burro a 4 il lino a 3 la lana a 5 il pellame a 16 la pelliccia 43 raga qua sono sbroccati qua sono sbroccati malissimo ma qui fai profitto con qualsiasi cosa il pesce a 3 il pesce a 3 lo devo comprare anche il burro a 4 e qua però non posso andare a novgorod no sì che posso andare a novgorod e qua urge fare comprare un'altra una nave più grossa dobbiamo comprarci quello grosso insomma il cazzone galleggiante cuoia 207 raddoppiamo subito vasellame via qua non vediamo un cazzo cioè questa è un'altra città dove il lino a 3 lo compriamo il lino a 3 fulla lino e va bene così poi ci sono altre pelli illegale vi puri una nave lunga 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 ci serve quella grossa ma costa 20.000 mi sembra no qua fanno solo i dinghi dinghi vabbè compra comprane un altro comprane un altro perché oh cazzo madonna ha detto il bug no no è buggato non ci voglio credere è buggato no 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 è buggato il porto non ci voglio credere oh 4.500 riusciamo a venderlo questo l'avevamo pagato 4.500 vendiamole le vendiamo e e andiamo da un'altra parte perché è bug dobbiamo ricordarci il porto di vipuri è buggato andiamo a riga passando da plotzk merda oh no e qua da dove cazzo passiamo adesso dobbiamo fare il giro dell'oca perché sennò qua ci sono i fiumi e questo crossing ci costerà cifre esorbitanti ti hanno assunto Andre sono molto contento ma il rito celtico quando il pubblico sostiene funziona sempre a proposito del rito celtico quel giorno lì oltre a te l'avevo fatto anche ad un altro ragazzo che mi sembra che il giorno successivo doveva avere un esame o una verifica o un'interrogazione o qualcosa del genere vorrei sapere vorrei sapere com'è andata qua io sono peggio di Vanamarchi è tutto gratis a differenza di Vanamarchi che chiedeva 100 euro per un tronchetto della felicità che poi col mago donna cimento glielo dava a lei glielo dava a lui il tronchetto a lei ma vabbè non voglio andare ad indagare mago sì mago io ne ho dai su 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 banditi della foresta non ti prenderò mai carovana vieni qua che ti voglio parlare magari compri le mie merci ehi tu siamo appesantiti abbiamo un malus mandria clamoroso con tutti i cavalli che abbiamo per trasportare queste merci guardate che se adesso becco dei vampiri buonanotte dei banditi che mi massacrano io l'unica volta che erito Celtico non ha funzionato Crambi si è rotto la testa è vero e beh quelli sono i piccoli inconvenienti del mestiere sono come si dice gli effetti collaterali no? vi ricordate quando Crambi ha tirato una testata? cioè io li sono scoppiato a ridere devozione e qua questo è un per due questo è un per due netto perché l'abbiamo comprata a 50 il lino a 12 noi l'abbiamo pagato pochissimo 3 ma anche qua producono formaggi in quantità industriali mi sa perché il pesce a tre il pesce a tre si compra ragazzi cioè qui hai un margine di guadagno clamoroso allora qui c'è il porto talk to the ship right la snecchia cargo capacity 2000 minchia la galleas 40 di truppe 40 di truppe ma compriamo compriamo fleet name la mettiamo la chiamiamo confcommercio vai abbiamo 13 uomini in più ah ma perché mi sa che conta chi è Florence la guaritrice una bella scozzese una bella scozzese carina carina diciamo che per quel periodo qua già trovarne una con tutti i denti va bene nel senso tutto il port eh no niente devo minchia ma sto dinghy qua fa proprio schifo prendiamo un'altra dinghy si ok scozzese e rossa come il fuoco mamma mia quindi sta aiuta dov'è che abbiamo comprato aspetta l'aiuta noi l'abbiamo comprata a Vipuria 54 a Vipuria 54 io torno a Vipuri andiamo ad Anzica poi facciamo il cazzo è Vipuri è Viborg vai di là dai eh abbiamo schillato abbiamo schillato veramente vai avanti avanti in commercio che qua non so se prendere l'aiuto tornare indietro a prendere l'aiuta eh però vipuri si blocca vipuri si blocca raga vipuri si blocca ci dobbiamo andare aspetta c'è un c'è una landing area qua dobbiamo ricordarci che a vipuri infatti gabriele esatto bravo 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 vedo che ti ricordi tu sei un malandrino mandarino oh che poi non siamo andati a vedere l'ulea sì ma andiamo a uno no avremo un malus mandria di 2,70 dobbiamo spostarci di porto in porto ho già capito Turcu facciamo un salto a l'ulea Sundsvall quella di riga fammi vedere merda non ho la reference per l'aiuta bene ce l'abbiamo qua ormai mi conoscono in tutto il mondo ecco abbiamo fatto un sacco di soldi abbiamo scoperto delle zone commerciali molto profittevoli siamo andati a Novgorod e abbiamo scoperto che lì si compra bene l'aiuta il pesce un sacco di cose formaggi latticini quelle robe lì sono andati Cravattaro, esatto. No, però aspetta, perché la pelliccia è 43, però è buono. Qualcosa compriamo. Torniamo verso casa. C'è casa, noi non abbiamo una casa in realtà. La nostra casa si chiama Dinghi. Si chiama Dinghi, si chiama Dinghi. Noi dobbiamo arrivare ad avere una cargo capacity di 20.000. Con 20.000 riusciamo a spostare 2.000, 3.000 di grano a volta e fare un sacco di soldi. Grazie. 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 Stoccolma. Facciamo Copenaghen-Gotteborg, Oslo-Hamburgo, con tappa intermedia Copenaghen. E olio e vino a nord, il problema è che olio e vino a sud non abbiamo trovato dei prezzi buoni quando avevamo la possibilità di caricare. Noi adesso siamo ritornati o esplorazione. Lì non l'abbiamo pagato tre, fino a nove vendiamo, un per tre va bene. Qui possiamo comprare seta grezza. Ed è perché è pratico il mare del nord, perché ci sono tutte le città grosse che sono tutte insediamenti portuali. Dai Gabri, racconta una barzelletta. Grazie. 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 cosa dice una broca o un lavandino dopo che hanno litigato stocco carina e noi invece adesso ce ne andiamo via da queste zone qua di stoccolma oslo e compagnia bella torniamo giù che dobbiamo vendere tutto il nostro pellame il burro che nel mentre sarà anche fermentato grazie noi grano ne abbiamo dietro noi grano non ne abbiamo prendi qualcosina di grano grazie a tutti 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 abbiamo un valore di trasporto altissimo ciao nate noi facciamo questo scarico e per l'una ci fermiamo anche noi ci fermiamo anche noi no e sì gli attrezzi li ho visti il problema qual è il problema che li abbiamo comprati abbiamo un prezzo meglio d'acquisto di 59 più o meno eravamo lì vendo dove mi conviene vendere sai cioè la stiva è quella io voglio una flotta di galleas grazie a tutti 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 potremmo pensare di dire fare londra parigi riscendere andare verso come si dice la Spagna. Madonna, non schilla più. Non schilla più. Non schilla più. Pesce a 14, vendi tutto. Arriviamo a Parigi e ci fermiamo ragazzi. Dove tutto è iniziato. E poi ragazzi questa se volete la continuiamo domani sera. Cosa dite? La continuiamo domani sera. Gioielli 200 ad Hamburgo. Sì però è anche vero che... Ecco qui l'aiuta per esempio. Possiamo venderne un po'. Ma noi ci stiamo cibando di... Compro un po' di grano... Fino a 6 va bene. Ancora 5 minuti. In 5 minuti possiamo arrivare... Al porto di Nantes. Che bello che ha incorretto questa cosa su... su quell'aggiornamento. Che se clicchi va lì e non si ferma al ferry point più vicino per... Oh che finalmente... Era la cosa più fastidiosa del mondo. Allora Alan. Rotta del Nord. Carne e pesce per venderli. È vero. È vero. Sì. Allora le pellicce ce le teniamo per la Spagna abbiamo detto. Qui possiamo comprare l'argilla. A 4 non di più. Lino ne abbiamo ancora un po'. Lana ne abbiamo. 27 e poco. 10 comunque comprato bene. Minerale d'argento compralo tutto. Vino a 72 si vende da solo. Il pezzo di velluto. Prendiamone due. Poi ci sono le pecore a 28. Compriamone un po'. Che versione del gioco stai giocando per questa mod? Allora adesso ci prendiamo gli ultimi... Ci fermiamo a bordo e vi faccio vedere una cosa. Così... Rispondo a tutte le vostre domande. Il velluto a 265 già lo vendiamo fuori. Il vino a 149 già abbiamo marginato. L'argento fino a 120 lo vendiamo. Il formaggio... Lo vendiamo fino a 40. Il pellame lo vendiamo fino a 35. E le pecore si possono... Aspetta le pecore, aspetta le pecore, aspetta. La carne quanto vale? 26 ci conviene vendere le pecore. Fino a 60. Tac. Allora... Io direi... Facciamo il salvataggio. Non scappate perché vi faccio vedere una cosa che... Per chi ha intenzione di giocare questo modo potrebbe essere d'aiuto. Ok. Dunque. Allora, fatemi aprire. Eccola qua. Dunque. Fammi cambiare l'inquadratura. Ecco qui, ragazzi. Allora, voi avete bisogno di queste mode qua. La versione è la 1.2.8.1. Quella necessaria per giocare l'aggiornamento. E avete bisogno della Harmony 2.3.0.186. Del mode configuration menu 2.8.13.0. Della Europe 1100 1.6.4.2. Della Europe campaign map 1.2.8.4. La banner color persistence con il banner past. Ragazzi, quando scaricate una mode, ok, andate a leggere. Mi raccomando, leggete. Perché alcune richiedono delle configurazioni tipo questa. Dovete seguire quello che vi dice qua sotto, ragazzi. Dovete seguire quello che vi dice. Bisogna andare nei file e impostare su true un valore in un file .json, ok? Leggete, è scritto tutto. Non sapete l'inglese? Tasto destro, traduci in italiano, ok? Mi raccomando, fatelo. Poi, serve la Veghear Armory, la Veghear Armory RBM patch. E anche qui vi spiega come installare la patch, va bene? Leggete sotto, leggete, ragazzi, leggete. Ok? La Better Pikes e le Breakball Pole Arms. Le Breakball Pole Arms è una sub-mod che è quella che fa sì che le vostre armi si possano rompere. Non è necessaria. Cioè, potete anche non metterla questa qui, così come le Better Pikes. Va bene? Queste qua sono quelle fondamentali. Poi ci sono delle altre sub-mod che se volete potete metterle, ok? Alcune sono carine, però ognuna richiede del tempo. Calcolate che di quella lista che vi ho fatto vedere ce ne sono un paio che pesano sugli 8-9 giga di download. Quindi calcolando che, a meno che non abbiate l'abbonamento a pagamento su Nexus, vi va col download a rilento, ci vuole un bel po' di tempo per farlo. Perché dovete scaricare da Nexus e non da Steam? Perché Steam si auto-aggiorna, ok? Voi immaginate se per giocare, avendo necessità di, non so, 10 mod diverse, per questo tipo di mod che è la Europe 1100, scaricandole da Steam, di queste 10 ce ne sono due che si aggiornano oggi, una che si aggiorna tra due settimane, una che si aggiorna tra un mese. Non vi va più il gioco. Perché poi devono essere tutti alla stessa versione, ok? Quindi non fatelo da Steam, fatelo da Nexus Mode, ok? Vi linko qua in chat la pagina della 1100, anche qui sotto. L'ordine, l'ordine, l'ordine ragazzi è importantissimo, l'ordine è importantissimo. Ricordatevi che la Europe 1100, se scaricate solamente queste, vi dà dei problemi, ok? Vi dà magari i soldati che combattono senza armatura. Quindi, il consiglio che vi do io è, scaricatele una a una da qua sotto. Intanto sono tutti, cliccatevi, vi mette il link. Io vi posto questa qua, che è quella della Eric Stroops. Trovate già tutto, e qua sotto avete il load order, come dovete metterle nel launcher, ok? Va bene? Prendo, copia. Ve la metto in descrizione, ok? Ve la metto in descrizione, perché se poi la metto qua in live, uno, prima di leggere il messaggio, magari quando rivede il tutto, deve arrivare alla fine dopo tre ore, mentre almeno in descrizione è un po' più pratico. Stoccarda, vabbè, sembra un po' tonto però. Il problema è il Game Pass, fermo la versione. Ecco, il Game Pass, Mike hai ragione. Io ce l'ho da Steam il gioco, ok? Quindi, guarda, tra l'altro, allora adesso non vorrei dire una cosa, eh. Questo è il nostro sito col quale siamo partner ormai da tre anni. Trovate il link sotto in descrizione, così voi risparmiate e noi guadagniamo qualcosina che poi dopo utilizziamo per creare premi per i nostri eventi. Vediamo un po' Bannerlord, quanto viene. Questo è il The Warlord Package Steam Key. Una ventina di euro. Viene una ventina di euro. 20,56€ con la Steam Key Global. Secondo me, a 20€ è comprato benissimo. Prezzo pieno quanto costa Bannerlord? Fammi controllare. Vediamo un po'. Allora, pagina del negozio. 49,99€, sono 30€ in meno. Sono 30€ in meno. Un bel risparmio. Puoi metterlo anche sul Discord, nella sezione di Bannerlord, magari se la prendono direttamente. Ma la metto sotto in descrizione al video, guarda. Pino il messaggio. Pino il messaggio. Perché sul Discord è un po' un problema sul Discord. Vabbè, dopo lo faccio, perché adesso qua poi dopo si vedono i messaggi segreti. La gente può... Quindi no, meglio di no. Detto questo, io spero che vi siate divertiti questa sera. Se così è stato, vi invito a lasciare un commento sotto in descrizione. Fateci sapere un po' magari quelle che secondo voi sono le tratte più profittevoli. Quindi, non lo so, comprare pelli a Danzica e venderle a Londra. A Londra, comprare la carne e venderla a Danzica. Una roba del genere. Allora, almeno facciamo anche un qualcosa di utile per chi poi magari vuole giocarle. Almeno sotto nei commenti trova le tratte più convenienti da fare. E lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E io vi do appuntamento domani alle ore 14 per il video o la live pomeridiana. Da lunedì, ragazzi, parte sia la Royal Rumble sia anche la nuova serie su Total War Attila. Quindi da non perdere. E continua la serie di Herz of Iron 4. Domani sera io pensavo di continuare Mountain Blade Bannerlord. Se a voi va bene, che dite? Detto questo, io vi ringrazio, vi auguro una buona notte e ci vediamo domani. Ciao belli. Ciao belli.